Allora, la posizione deve essere molto ravvicinata, perché poi quando arrivano l'impottero la spinta dell'aria, per me è un po' di vento, è una bella spinta, insieme ai vicini, quelli dietro, che hanno quelli davanti che fanno d'altimento, gli aiutino a stare fermi, la rituale attrezzatura dove sta? Davanti qua sdraiata, con i ginocchi aperti, e in altri qui dietro, tra loro, i zaini vengono tenuti davanti, in questo momento tutto bello chiuso, fino a quello dopo, verrà collocata, questo è il futuro, in che ordine si sale? Se io faccio salire lui, è un casino, chi è più vicino a lui? Lui è primo, secondo, terzo, quarto, caposquadro per ultimo, quando poi scendiamo il caposquadro insieme, il secondo che sale si metterà accanto a lui, il terzo accanto farà nella prima linea, per esempio lui che scende e si mettono davanti, in modo che non dobbiamo incrociarci, che cosa succederà dopo, che ci sarà una squadra che scende e una porta a salire, il caposquadro di quello che scende si metterà in seconda linea, il primo vicino non vuole incrociarciare, e tutti gli altri in conseguenza, in questo modo, in qualche momento, c'è tutto il personale e non viene mancata la regola di specialista, pilota, il caposquadro, la vedono qui, e qui ci sono le regole, con grande tranquillità. C'è lo specialista nervoso che non fa stretto, ricordatevi che un minuto e mezzo o due minuti non cambia niente per l'impatto, l'importante non fare errori, non fare funzionante, perché poi si perde tempo, molto di più, potrebbe riservare per riparci, si cambia niente. Allora, il pianista si mette qua, ha sistemato le sue cose, chiamo al primo, il primo, il passo, il passo, il passo, il passo. Sapevo io, l'intelligenza c'era da giornata. Stavamo andavamo in bene, migliorato. Succede, ultimo, il caposquadro. Non importa che chi c'è qua sembri distratto un passo oltre, noi ci muoviamo quando ci viene dato il segnale. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.